Il territorio è meraviglioso e faremo una caccia di una volta. Due affiatati compagni di caccia sono i protagonisti di una serie di battute alle quaglie nelle praterie di un altopiano della Repubblica Serba di Bosnia. Ci vuole tanta pazienza e soprattutto ci vuole come al solito cani che conoscono il loro mestiere. Speciale Quaglia, lunedì 17-24 giugno alle 21.30 in esclusiva su Caccia, canale 235. Grazie per la visione!